Donare sempre più opportunità di crescita ai giovani detenuti affinché possano apprendere elementi che li porteranno ad avere una vita diversa. E' questo il senso di Airola, sport, spettacolo e sociale, programma rivolto proprio agli ospiti dell'Istituto Penale della Cittadina in provincia di Benevento. Ad organizzare l'iniziativa l'associazione Scugnizi, sempre attiva nel sostegno a questa particolare categoria. Il progetto gode del patrocinio del Consiglio regionale della Campania e del contributo dell'azienda McDonald's. Ai nostri microfoni Bianca D'Angelo, assessore alle politiche sociali della regione Campania e Giuseppe Centomani, dirigente della giustizia minoreile per la nostra regione. La regione in questi anni ha messo in campo uno straordinario programma di reinserimento sociale. Parliamo finalmente di un welfare inclusivo e produttivo perché abbiamo finanziato con 5 milioni di euro i corsi di formazione all'interno di tutti i carceri, tutti gli istituti di pena campani. 1.850 detenuti che hanno la possibilità di seguire dei corsi di formazione scelti da un catalogo di servizi dagli stessi direttori degli istituti di pena. Noi abbiamo visto che questa è una buona prassi, cioè il collegamento tra l'istituzione, il privato sociale del territorio e il mondo del lavoro. Quindi gli imprenditori che hanno concretamente la possibilità di acquisire forza lavoro proveniente anche dalle aree del disagio. Abbiamo fatto varie sperimentazioni in questo senso e ci siamo resi conto che l'unico modo per costruire realmente un nuovo futuro per questi ragazzi è quello di lavorare sia sul piano educativo e quindi per far sviluppare in questi ragazzi l'idea di sé come lavoratori e come cittadini, prima ancora che insegnargli materialmente un mestiere.